salve ragazzi benvenuti nel mio canale oggi ragazzi come potete ben vedere siamo qui su farming simulator 19 nella splendida l'erisaie del nord ovviamente accompagnati sempre dal nostro buon collega sten84 buongiorno dottore buongiorno capo buongiorno a tutti i ragazzi grazie come sempre per il bell'invito qui sull'erisaie del nord ma figurati allora ragazzi siamo lasciati lo scorso episodio con l'inizio della trebbiatura sul campo 6 io off camera me lo sono terminato dobbiamo solamente finire di raccogliere la paglia e possiamo finalmente iniziare i tre o quattro campi quattro campi a pisello proteico così meno vediamo anche un pochettino quanti soldi riusciamo a fare come vedete abbiamo finito proprio tutto non c'è rimasto più nulla se non forse questo pezzettino che l'operaio tralasciato ma dettagli nel frattempo lei collega se si vuole iniziare a raccogliere sta paglia su sto campo sì sì io invece raga vado con la trebbia e mi vado a raccogliere iniziare a raccogliere su pisello proteico così meno vediamo un attimino come va credo che la paglia raga la venderemo a proposito a proposito di vendita abbiamo anche il compost perché il compost è pronto per la raccolta e voi giustamente in nei commenti mi avete detto fai una bella cosa metà la tieni come compost come diciamo concime da dare sui campi che poi daremo appena finiamo di raccogliere la paglia e metà o tre quarti insomma te lo vendi penso che sia la scelta migliore così almeno testiamo sia il compost come aspetta che ti vediamo come va come se la cava in entrambe le condizioni diciamo allora eccoci qua raga questa è la texture del pisello proteico devo dire non mi fa troppo impazzire se devo essere sincero sta texture però va bene detto ciò partiamo ok protein p esatto non credo facciamo esatto paglia paglia non si può fare da qua infatti però raccogliamo tutto il pisello proteico credo che qui io andrò a farci vediamo se ce l'abbiamo già il percorso allora io ho finito di raccogliere la paglia sul 6 perfetto allora dato che hai finito di raccoglierla io boh quasi quasi raga l'andrei a vendere un po' di sta paglia perché tanto non ce ne facciamo nulla allora 97 al fienile il fienile però non ho creato il punto ancora mulino ristorante no non so neanche dov'è ah è qua il fienile e no non ce l'ho il punto selezionato allora facciamo così tu vieni a controllare la te la tre bieste perché qui sono sicuro che facciamo un po' di danni allora iniziamo a registrare il percorso raga sì dimmi vedo che ti piace davvero il mio agrifull è la cosa che ho scoperto è sì agrifull agrifull e tutti lo dicono è sì ma non preoccupare ho la passione per gli agrifull ah sì scoperti ora però c'è la passione una passione nascosta ah va bene va bene allora raga eccoci arrivati il punto l'ho creato fatto tutto purtroppo lo scarico è un po' pestifero quindi ci toccherà ogni volta scaricare noi a mano ma va bene nessun problema non faremo tanto anzi veramente faremo proprio nulla praticamente ma chi se ne frega direi l'importante che un qualche soldino almeno ce lo facciamo piano ok boom non so quanto abbiamo guadagnato raga e neanche mi interessa se devo essere sincero l'importante che ci facciamo un paio di soldini ma credo comunque sui 2000 quasi 3000 3500 più o meno 3000 e 24 euro 3024 vabbè sono stato un po' più o meno giusto dai ho preso nota di tutto e avevo preso nota di tutto bravo bravo lei è proprio veramente il notaio di fiducia il notaio di fiducia ottimo bene bene sono il commercialista ecco il commercialista allora andiamo verso la farm e andiamo a riempire un altro bel carico non è che abbiamo bisogno di soldi raga però insomma può tornarci utile la vendita della paglia dato tenerla lì boh io nel frattempo ho collegato il i vari punti qua così in teoria questo poi se ne sbanca di qua e va di qua tranquillamente o meno male che qua abbiamo le strade comunque tutto sommato larghe cioè non vi ti giuro non è possibile perché non vai vai rileva le collisioni e non cammina allora raga non so precisamente che fare nel senso che per quanto riguarda le colture vorrei riprovare a seminare nuovamente il riso valore ph buono ma si buttiamocela un po di calci dai tanto chi se ne frega ok e vai così e passiamo sta splendida calce così perfezioniamo il campettino e vai però devo mettere non so dove mettere la metto qua di fuori magari mamma mia se tu vedessi quello che ho fatto non ci credo raga facciamo una roba adesso finisco di passare la calci buttiamo un operaio a seminare il riso e noi ci iniziamo a posare fuori dalla farba fianco al parcheggio per la trebbia il come si chiama bravo lavami un po intanto il l'allevamento salve salve l'allevamento per per le pecore l'allevamento per le pecore allora dobbiamo coltivare dobbiamo coltivare dobbiamo coltivare dobbiamo coltivare dobbiamo coltivare va bene fa tempo che allora aspettiamo il collega che finisca perché devo andare a inserire il nuovo coltivatore raga anzi forse il nuovo erpice rotante sì piccolo spoiler il selvatici oggi andremo a provare vado a inserire nel frattempo il nostro bellissimo pascolo quindi andiamo sul recinto animale andiamo a cercare un bel pascolo da poter posizionare ma io lo metterei qua raga guardate ci sta bene bene proprio giusto giusto e dietro abbiamo tutto il campo ad erba ma meglio di così raga ma meglio di così poi a fianco abbiamo tutta l'erba da poter falciare da dare alle pecore cioè raga vi sto proponendo di quelle cose chi ve le propone ditemelo chi nessuno va che meraviglia ok ho posizionato anche già i tubi raga cos'è meno abbiamo già i tubi e niente vado inserire un secondino raga la mod per quanto riguarda la coltivazione che cos'è meno mettiamo l'operaio a coltivare e poi iniziamo a comprare le pecore quindi a tra pochissimo allora ragazzi eccoci in partita compriamo a questo punto l'erpice rotante il bellissimo selvatici da due metri praticamente ok facciamolo partire quindi primo punto vai guardate che meraviglia l'animazione del dell'erpice raga c'è una roba veramente bellissima strepitosa purtroppo è un po' piccolino però facendo andare l'operaio raga a noi non ce ne frega niente lui va finché va va lo lasciamo andare e e così siamo belli belli pronti allora così meraviglioso adesso questo si fa tutto il percorsino e noi nel frattempo vabbè qua sta lavorando ancora nel frattempo noi ci andiamo a prendere il fend ci prendiamo ci prendiamo un quasi quasi dove stanno trasporto animali e ci prendiamo il trasporto ecco qua prendiamo il fattori raga questo splendido fattori no vabbè ma la c'è qua è troppo piccolo raga io penso che poi off camera raga sappiatelo tolgo sto muretto questo muretto qua davanti mettiamo un muretto sempre della stessa tonalità ma più che altro con il cancello un bel po più largo dai perché così veramente mercante di bestiam va indietro e iniziamo a caricarci le pecore allora pecore 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 cavallo pecora pecore bianca marrone nera e bianca no allora prendiamo quante pecore prendiamo diciamo 15 va bene dai allora ne prendiamo 14 bianche e una nera vede che mi legge nel pensiero perché la vede che mi legge nel pensiero la pecora nera ci deve essere sempre ok 15 pecore conferma vediamo un po che belle le nostre pecorelle e laggiù la pecora nera perché la pecora nera nel pascolo ci vuole sempre quindi detto ciò pecore messe adesso gli mettiamo l'acqua giusto da iniziare a poverine non fargli mancare almeno le cose primarie giustamente dobbiamo dargli erba o fieno per dargli erba o fieno salve salve lei chi è la pecora rossa o no no sono il veterinario al veterinario a dare un occhio si sono venuto a dare un'occhiata alla pecora nera ecco immaginavo chissà perché ma me lo immaginavo proprio quella nera chissà perché guarda buona salute mi ha detto è vero non ti resta molto tempo è per cui sono venuto a dargli le vitamine a va bene va bene allora chiamiamo il pietre li facciamo fare l'estrema unzione a questo punto perché già che ci siamo volevo dirglielo vicino al recinto che c'erano le altre che sentivano mi raccomando la funzione mi raccomando certo arrivederci arrivederci salve salve ci prendiamo questa piccolina pottinger qua e va benissimo così raga va benissimo così la prendiamo addirittura pure usata compra sì ok l'importante che vada vada bene insomma per quel piccolo pezzettino di campo che dobbiamo fare a quindi iniziamo abbassa accendi abbassa accendi anche la 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 falciatrice la mini falciatrice direi che direi che è qua forse non raccoglie raccoglie un po un po così no vabbè dai mi sembra che se la cava abbastanza bene purtroppo non riesce a prendere tutto raga giustamente il trigger perché la falciatrice è più larga di quello che di quello che è il trigger del cassone da carico ma al limite poi ripassiamo noi insomma abbiamo fatto veramente un'ottima cosa a mettere per tutti quelli raga che dicevate voi no è brutto il campo in farm però guardate quanto è utile è utilissimo perché noi adesso raccogliamo quando ci siamo stufati di raccogliere veniamo qua e scarichiamo ti compro un ranghinatore mi vieni mi aiutare per piacere un secondo a ranghinare qua iniziamo intanto noi a scaricare qui l'erbettina per le nostre belle pecorelle sempre che me la scarichi che non me la scarica accidenti a certo non avevo selezionato il coso ok allora trebbia 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 necessita di essere scaricata andiamo a scaricare la trebbia devo dire che effettivamente non è che abbiamo guadagnato più di tanto questo cassone qua che tu del camion stai caricando è già scaricato una volta no no quindi tra campo 10 campo 5 siamo solo al 61 per cento è la miseria raga ma non guadagniamo un tubo da sto campo allora però abbiamo fatto pochi soldi cavolo in confronto veramente all'alfalfa abbiamo fatto neanche un decimo qua va avanti indietro senza timore senza paura lui va e che una meraviglia bene qui intanto sta andando vediamo poi se riusciamo a terminare anche di questo spegni di trebbiare sui nuovi campi diciamo vediamo se riusciamo oh che bello sono contento raga che abbiamo preso intanto le pecorelle queste inizieranno adesso a fare un bel po di lana che spawnerà qua e poi ogni volta noi andiamo a spostare qui abbiamo ancora un pochettino di insilato al compost mamma mia che sciocco il compost fermi tutti fermi tutti mi sembra che c'è sì prendiamo questo trattorino che tanto va più che bene prendiamo il bel valzelli e il compost quasi quasi io lo inizio a scaricare nel silo raga come detto lo scorso episodio poi eventualmente lo lo vendiamo a momento debito in teoria il compost adesso si vende bene al biogas mi pare 1080 se non ricordo male 1080 e difatti 1080 e non credo che scenderà di lì quel prezzo penso che rimarrà sempre più o meno fisso quindi si vende anche molto bene se eventualmente poi un futuro lontano vicino che si avremo bisogno di soldi basta insomma caricarcelo l'unica pecca ecco e come me lo carico mo tutto sto insilato qua 7 mila euro per cinque bennate insomma non so quanto conviene di guadagnato non leggiamolo non leggiamolo risparmiamo tanti di quella fatica raga che neanche vi immaginate io intanto con la splendida pala gommata marcata anche new holland neanche farlo apposta raga marchio italiano quindi meglio di così non potevamo chiedere e devo restituire il fattore però prima di tutto è perché sennò se mandiamo avanti nelle prossime volte allora lo restituisco così allora vai così lampeggianti alla mano e via 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 belli spediti belli spediti vai 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 uuuu raga che meraviglia ogni volta sta sta mod mi veramente mi fa troppo sorridere prima a portarlo con la pala ah beh è vero effettivamente non hai torto faccio veramente prima a portarlo con la pala hai ragione hai ragione allora vabbè questo intanto inizio a scaricarlo e e ci siamo e volevo poi provare raga dato che abbiamo coltivato a spandere poi vabbè ma questo lo facciamo ovviamente nel prossimo episodio lo proviamo a spandere sto compost sopra il campo e vedere come come si comporta insomma va bene come ha detto il buon collega facciamo così che è la scelta migliore va ok perfetto un altro paio di bennate e ci siamo e ci siamo ma credo che però questa cosa me lo andrò a fare off camera anche perché oramai siamo arrivati alla bellezza di un'ora adesso vabbè facciamo giusto l'ultimo carico così vedete l'ultimo carico sempre con questa splendida pala gommata e poi direi che ci siamo carica tutto carica tutto mamma mia oh raga in un attimo in un attimo seccherò sicuramente tutto il tutto il silo detto ciò raga direi che per questo episodio ci possiamo terminare qua ovviamente vi ricordo in descrizione link utili il link delle donazioni il link per comprare tanti bei giochi scontati e i link di partner giants se volete supportare il canale andate a comprare farming dal mio link e anche ovviamente il link diretto per il canale del buon collega mi raccomando andatevi ad iscrivere mi strozzo andatevi ad iscrivere se non l'avete già fatto detto ciò raga io vi mando un grosso saluto e ovviamente ci vediamo al prossimo video occhio alla benna ciao l'ho visto visto ciao a tutti ciao 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 ciao